bentornati a tutti ragazzi su 10 alfred channel il gruppo di film di oggi è particolare ma è stato uno dei primi che volevo fare e spero vi possa incuriosire di interessare il gruppo di oggi riguarda i 10 film incentrati su oggetti maledetti in che senso oggetti maledetti beh iniziamo subito a spiegare una cosa il buon alfred hitchcock si narra fu il primo a coniare il termine mcguffin in ambito narrativo cos'è un mcguffin è un oggetto al quale girano attorno sia trama che personaggi può essere ben conosciuto un ottimo esempio può essere l'anello del potere della trilogia di tolkien oppure anche sconosciuto per esempio la valigetta di pal fiction che vediamo sempre chiusa e quando viene aperta non abbiamo la minima idea di che cosa vi sia dentro ma tornando al titolo di questo video nella mia mente c'era questo pensiero in più non solo volevo parlare di oggetti mcguffin famosi ma di oggetti molto rari oggetti antichi magari che stanno attraversando svariati territori e paesi del mondo di mano in mano oggetti con un misterioso ed antico uso e significato creati per chissà quale ragione ed il risvolto che più mi interessa è proprio quell'aggettivo maledetti oggetti cioè che portano sventura cataclismi e disastri a coloro che li trovano e o cercano di domare il loro potere o sventurati protagonisti che per loro disgrazia non conoscono affatto i poteri e la storia di questi oggetti e per questo motivo ne pagano le conseguenze come forse saprete uno dei principi su cui si fonda questo canale è quello di non fermarsi sui titoli più famosi e conosciuti di ogni gruppo di film che proporrò ma di cercare un po più a fondo rimboccarsi le maniche mettere il naso ben dentro l'enorme serbatoio della storia della cinematografia per trovare qualche chicca qualche capolavoro sommerso o poco conosciuto questo riguarda sia me che voi se volete partecipare a questo gioco non è stato per niente facile trovare dieci film più o meno conosciuti in questo ambito ma spero che mi darete una mano a trovarne altri quindi come dicevo scartiamo a priori per esempio l'arca dell'alleanza del primo indiana jones oppure uno qualsiasi dei film dell'universo marvel che riguardano una o tutte le gemme del destino prima di partire solo tre veloci reminder questo canale di suddetto autore odiano le classifiche in ambito artistico perché sono convinto non abbiano davvero senso quindi il gruppo di film e di scene che vi sottoporrò sono appunto un gruppo non una classifica 2 se quello che vedrete vi interessa e vi piace lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella amo questo canale e voglio farlo crescere 3 ogni spezzone o immagine che vedrete ed ogni mio commento adesso non rovinerà la trama del film se non lo avete visto bene direi proprio di cominciare allora oggetto mal detto numero 1 il necronomicon da la trilogia della casa di sam raimi bene partiamo piano ma ben spediti con un gruppo di film abbastanza conosciuti la meravigliosa trilogia della casa il nostro bruce campbell che interpreta ash si trova suo malgrado ad avere a che fare con il primo degli oggetti maledetti di questo video il necronomicon ex mortis o meglio conosciuto come semplicemente necronomicon nel primo film ash trova in cantina del materiale e soprattutto una registrazione del precedente inquilino della casa un archeologo che legge ad alta voce una formula scritta nel libro maledetto ed è proprio da quelle parole pronunciate che si scatena il pandemonio esce nei seguenti film soprattutto nel terzo l'armata delle tenebre dovrà patire le pene del proverbiale inferno per tornare ad una vita normale il necronomicon non è certo un'invenzione di raimi piuttosto è preso in prestito dall'antologia del grande grandissimo immenso scrittore di inizio novecento award philip lovecraft che lo ha letteralmente inventato e messo al centro della sua serie di racconti d'orrore cosmico centinaia di piccole storie che ruotano tutte attorno al culto di divinità antiche e immensamente potenti come cthulhu azatot o yogsotot e decine di altre entità scritto dall'arabo pazzo abdul ala zred il necronomicon supera le ere la storia del mondo di mano in mano di lettore in lettore e viene usato da chi lo conosce per venerare e nel peggiore dei casi evocare uno o più di queste divinità antiche nella trilogia della casa oltre a risuscitare spiriti defunti esce risveglia un demone un'entità che non vediamo quasi mai ma che raimi inquadra sempre in soggettiva mentre dà la caccia al suo evocatore qui potrete vedere come raimi spiega nel film l'armata delle tenebre il terzo capitolo della trilogia cosa sia il necronomicon se però ne volete sapere di più mettetevi tra le braccia del divino haward philip lovecraft narra la leggenda che fu scritto dagli spiriti delle tenebre necronomicon ex mortis libro dei morti il libro serviva a indicare i passaggi verso i mondi demoniaci dell'altilà fu scritto tanto tempo fa quando i mari divennero rossi di sangue e fu con quel sangue che venne scritto il libro nell'anno 1300 il libro scomparve oggetto maledetto numero 2 il falco maltese dal film il mistero del falco di john houston 1941 il mistero del falco o il falco maltese è un film cult della storia del cinema non solo è uno dei noir più arrappresentativi del genere insieme ad altri capolavori ma è anche il classico film giallo vecchia maniera dove l'investigatore humphrey bogart il vero uomo che non deve chiedere mai si trova a gestire delitti e misteri con grande carisma e la battuta sempre pronta personalmente adoro i noir e quando ho cominciato a guardare i titoli più famosi di questo genere come il terzo uomo o il grande freddo o casablanca ho capito dopo poco perché bogart si è diventato un'icona del cinema c'è da dire che anche il suo doppiatore sempre lo stesso in quasi tutti i film era bravissimo a dare l'impronta al personaggio ma non siamo qui per parlare di bogart oggi concentriamoci invece sul nostro oggetto maledetto di turno il falco maltese questo oggetto di immenso valore viaggia di mano in mano da secoli lasciate che sia uno dei personaggi principali della storia il perfido e ossessionato signor casper gutman a spiegarvi la storia di questa reliquia maledetta conosciuti poi come cavaliere erano dei crociati se non sbaglio molto bene si siede nel 1539 persuasero l'imperatore carlo quinto a concedere loro l'isola di malta lui l'ha detta una condizione che pagassero ogni anno il tributo di un falcone come riconoscimento che malta era ancora spagnola mi segue a idea dell'estrema incommensurabile ricchezza dell'ordine in quei tempi so che non se la passavano male una definizione molto approssimativa navigavano nell'oro nei lunghi anni di guerra in oriente avevano accumulato gioielli metalli preziosi sete avori si può dire che la guerra santa fu per loro soprattutto una fonte di grande ricchezza i cavalieri furono profondamente grati all'imperatore carlo per l'isola che gli aveva concesso così pensarono di inviargli per il primo anno del loro tributo non un insignificante uccello ma un falcone ricoperto d'oro e tempestato dalla testa ai piedi dalle più belle pietre del loro tesoro allora cosa ne dice non saprei è la verità fatti storici non la storia che si legge sui libri ma quella che pochi conoscono quindi lo mandarono all'imperatore carlo che in spagna su un galeone al comando di un cavaliere dell'ordine la nave non giunse mai un famoso ammiraglio dei bucanieri prese quel galeone e la statua nel 1713 il falcone venne ritrovato in sicilia nel 1840 si trovava a parigi ed era già rivestito di uno spesso strato nero in modo che sembrasse nient'altro che un oggetto semplice ma interessante e fu in questa forma che venne diciamo così smerciato a parigi per molti anni da collezionisti privati così stupidi da non capire cosa c'era sotto poi nel 1923 un antiquario greco di nome carilaus costantilides lo trovò in una misera bottega oggetto maledetto numero 3 la nona porta dal film la nona porta di roman polansky 1999 la nona porta è stato sicuramente uno dei film a più alto budget di polansky venuto dopo solo cinque anni dall'ultimo film il bellissimo e terribile la morte e la fanciulla qui polansky torna su temi già toccati in rosemary's baby di sicuro uno dei suoi film più conosciuti e cioè l'esoterismo tutto gira attorno ad un fantomatico libro la nona porta di aristide torchia un esoterista veneziano del 17 secolo ma torneremo dopo a parlare di questo libro d'incorso interpretato da johnny depp è un vero e proprio esperto e cacciatore di libri e manoscritti di valore una sorta di mercante del settore ed è anche molto molto bravo nel suo lavoro viene contattato da un milionario appassionato di libri antichi boris balkan interpretato da un austero e glaciale frank langella esistono solo tre copie in tutto il mondo sopravvissute al tempo l'usura e la sacra inquisizione della nona porta balkan ne possiede già una ma vuole accertarsi sulla sua autenticità delle tre copie rimaste solo una è l'originale e solo la copia originale contiene il segreto per esprimere il vero potere di questo libro il potere di evocare il principe delle tenebre la trama proseguirà con svariati colpi di scena non voglio rovinarvi la sorpresa c'è da dire però che polansky nonostante una certa lentezza nella narrazione ha messo come sempre i tasselli giusti nel posto giusto per poi durante il racconto lasciare alcuni buchi che con un po di intuito ricerca si svelano tutti nel finale che con polansky non è mai definitivo né tanto meno edificante la nona porta libro immaginario pubblicato guarda caso nell'anno 1666 è un oggetto che rispetta tutte le qualità di oggetto maledetto un ultimo applauso da parte mia alla bella colonna sonora di questo film ideata da voicic killer autore tra l'altro della struggente oscura cornice sonora del dracula di bram stalker di francis for coppola oggetto maledetto numero 4 il plettro del destino dal film tenacious d e il destino del rock di liam lynch 2006 e dopo lo scuro thriller esoterico di polansky rimaniamo sempre in tema satanico ma con bene altri toni tenacious d e il destino del rock è una commedia musical dai toni goliardici che racconta la storia prima di jb jack black cioè il tondo istruttore di musica di school of rock tra tante interpretazioni e poi del gruppo da lui formato insieme a kyle glass i tenacious d appunto da notare che i nomi dei personaggi e del gruppo sono veri i tenacious d sono davvero un gruppo rock formato da jack black e kyle glass lo sarà anche la storia raccontata nel film lascio a voi decidere il titolo originale della pellicola è tenacious d and the peak of the destiny letteralmente il plettro del destino il plettro per chi non fosse totalmente ignaro di strumenti musicali è quel pezzettino di plastica che si usa per pizzicare le corde di una chitarra ed è proprio il plettro del destino il nostro oggetto maldetto di turno maledetto non certo per chi lo possiede infatti nel film viene raccontato che chiunque possieda quel plettro sprigioni la vera forza del rock diventandone una leggenda un po come i capelli per sansone o excalibur per re hartu infatti mostri sacri del rock come eddie van allen lo hanno posseduto divenendo grazie al suo potere dei miti viventi maledetta in questo caso è la provenienza del plettro il quale si narra sia un dente del diavolo staccato da una battaglia medievale tra il signore oscuro un mago ed un fabbro che lo aveva evocato la commedia è godibilissima davvero divertente e piena di pezzi belli e spassosi vi sono anche moltissimi cameo e comparse due su tutte ronny james dio ex cantante dei black sabbath che si anima dal poster di jack black da piccino incoraggiandolo a seguire la sua voglia di fare rock e scappare dalla sua famiglia ultra religiosa e il secondo è matt growl l'ex batterista dei nirvana e il leader odierno dei fu fighters che interpreta non posso dirvelo ragazzi scopritelo oggetto maledetto numero 5 jumanji dal film jumanji di joe johnston 1995 e passiamo al quinto ed ultimo oggetto maledetto per questa prima parte di dieci film incentrati su un oggetto maledetto e come succedeva per la porta il nome dell'oggetto in questione è anche il titolo del film jumanji è un gioco consiste in una scatola di legno intagliato la quale si può aprire in due e quello diventa appunto il piano di gioco corredato da due dadi e quattro segnalini per altrettanti sfortunati giocatori al centro del piano di gioco troneggia una semisfera lucida nella quale appaiono dopo ogni tiro di dado gli ordini di gioco si potrebbe dire però che il vero piano o ambiente di gioco non sia appunto la scatola di legno ma piuttosto il luogo in cui noi stiamo giocando a jumanji sì perché ogni volta che vengono tirati i dadi le pedine si muovono che voi lo vogliate o no come nel gioco dell'oca c'è un percorso ed ogni volta che la vostra pedina si ferma c'è un bonus o molto più spesso una difficoltà che voi dovete superare e non si tratta certo di star fermo un turno o pagare un pegno in soldi finti in giumanji vengono evocate bestie feroci sabbie mobili mostri e agenti atmosferici lo scrittore del racconto dal quale è stato tratto il primo dei quattro film dedicati a questo brand per così chiamarlo chris van alzburg spiegò che la parola giumanji in lingua zulu significa molti effetti e mai parole furono più vere nel momento in cui il vostro segnalino si ferma su una casella nella sfera centrale appare un indovinello che preannuncia la prossima evocazione il vostro unico scopo è sopravvivere sopravvivere fino a che qualcuno dei giocatori non vince la partita arrivando all'ultima casella non si sa esattamente da quanto tempo questa scatola maledetta sia a giro per il mondo guardando il film si evince solo che nel 1869 due ragazzi lo stanno sotterrando di modo che nessuno abbia la sfortuna di trovarla e scatenare il suo immenso potere ma anche sottoterra il gioco riesce a fare sentire il proprio rimbombare dei tamburi a richiamare come una sirena nuovi giocatori grazie a tutti